La carenza di personale della nostra aslo ormai è risaputa. Purtroppo dal 30 settembre scorso la cessazione di 80 contratti a tempo determinato tra personale ausiliario e infermieristico purtroppo ha buttato nel panico la gestione dei reparti. Alcuni in particolare sono in una situazione veramente di difficoltà, come già abbiamo scritto nel comunicato, le medicine in particolare, pronto soccorso, che in questo momento veramente non riescono a far fronte alle numerose esigenze del personale ricoverato. Voi chiedete almeno l'assunzione di altre 20 unità? Sicuramente per far fronte alle imminenti festività natalizie, a quelle che sono le urgenze non si può pensare di non assumere quantomeno a tempo determinato altro personale. Sappiamo benissimo che è prossimo il concorso per infermieri che il prossimo gennaio inizierà l'iter per poter avere il prima possibile, speriamo entro giugno, una gradatoria dalla quale attingere a tempo indeterminato. Il problema è che bisogna programmare per poter arrivare a giugno ancora vivi, perché in queste condizioni è veramente difficile continuare a erogare assistenza di qualità.